Musica Chiusura punto nascita all'ospedale di Petrelia, il ministro della salute risponde ai sindaci. Il 5 gennaio del 1984 a Catania l'omicidio del giornalista Beppe Fava. Consegnati ad Altavilla Midicia i premi agrodolce. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Come avete sentito nei titoli parliamo della chiusura del punto nascita all'ospedale Madonna dell'Alto di Petrelia. 9 sindaci occupano i municipi, il ministro della salute Beatrice Lorenzina accusa la regione lavori per adeguare la rete sanitaria. 9 sindaci delle Madonie hanno iniziato oggi l'occupazione dei municipi e venerdì è previsto una manifestazione di protesta lungo l'autostrada Palermo-Catania con arrivo nel capoluogo siciliano per incontrare il prefetto. I primi cittadini protestano contro la decisione del ministro della salute Beatrice Lorenzin di chiudere i punti nascita negli ospedali dove il numero annuo dei parti è inferiore a 500 e tra questi figura anche quello di Petrelia Sottana. I sindaci hanno scritto al ministro che ha risposto con una lettera Non è accettabile che un'intera zona del territorio italiano oggi viva il disagio di avere un punto nascita privo della garanzia della presenza in guardia attiva H24 di ginecologi, pediatri, neonatologi ed ostetriche. E' stata la stessa aspe di Palermo, prosegue il ministro nell'analisi presentata al tavolo del comitato percorso nascita nazionale a sottolineare l'inadeguatezza in termini di sicurezza del punto nascita di Petrelia. La regione siciliana ci ha fornito un documento in cui i dati dicono in modo inequivocabile che le famiglie hanno già scelto ospedali più sicuri, non quello più vicino dove fare nascere i loro bambini. Era il 16 dicembre del 2010 quando nell'accordo Stato-Regioni anche la Sicilia firmava i requisiti operativi tecnologici e di sicurezza in cui ogni punto nascita doveva operare. Tra proteste e proroghe sono trascorsi oltre cinque anni senza che nulla cambiasse. Le donne, sono sicura, non vogliono promesse e passerelle. La regione siciliana, conclude il ministro, con la spinta di tutti voi che rappresentate le comunità locali, lavori per adeguare la rete sanitaria regionale. I siciliani che pagano tasse elevatissime per ottenere il servizio meritano una qualità migliore del sistema. E se questa la battaglia conclude, allora sappiate che il ministro della Salute sarà sempre al vostro fianco. Si allarga a Palermo l'inchiesta sulla ricercatrice libica indagata per istigazione a commettere atti di terrorismo. Si allarga l'inchiesta sulla vita e soprattutto sui contatti di Kadiga Shabbi, la ricercatrice universitaria libica, che la procura di Palermo avrebbe voluto arrestare ma che ha avuto dal giudice solo l'obbligo di dimora nel capoluogo. Il 15 gennaio prossimo sarà discusso l'appello contro la decisione negativa del GIP. Intanto l'inchiesta della Digos va avanti con perquisizioni e sequestri eseguiti dai poliziotti nei confronti di un cittadino tunisino vicino di casa della Shabbi all'albergeria, di un marocchino, due libici e di una borsista palestinese. Anche lei è impegnata in un periodo di studio e lavoro all'università. La donna finora è l'unica indagata per reati collegati all'apologia di reato con l'aggravante dell'istigazione a commettere atti di terrorismo. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi sia veramente la 45enne e la risposta potrebbe arrivare proprio dall'analisi di telefoni e computer che sono stati sequestrati. L'ipotesi alla quale i poliziotti della Digos devono trovare conferme o smentite è che tutti possano avere contribuito alla rete di propaganda di posizioni integraliste vicine ad Al-Qaeda, rete di cui la donna libica sarebbe stata il perno, tutte accuse da lei respinte. Il 5 gennaio del 1984 a Catania l'omicidio del giornalista Beppe Fava nel giorno del 32esimo anniversario, tante le celebrazioni in suo ricordo. Era il 5 gennaio del 1984 quando Giuseppe Fava, detto Pippo, venne freddato da cinque colpi di pistola. Il delitto fu etichettato come passionale, prima per un movente economico poi. Non si parlò mai di mano mafiosa, ma una cosa è certa, la città di Catania ha perso un grande uomo e oggi, come allora, la Sicilia intera continua a celebrare la sua memoria. Fava è stato un personaggio carismatico, direttore responsabile del giornale del Sud e fondatore dei Siciliani, secondo giornale antimafia in Sicilia. Quando fu ucciso aveva appena lasciato la redazione del suo giornale, si disse che la pistola utilizzata non fosse tra quelle solitamente impiegate in delitti a stampo mafioso. Nel 1988 si è concluso a Catania il processo denominato Orsa Maggiore 3, dove per il suo omicidio sono stati condannati all'ergastolo il boss mafioso Nitto Santa Paola, ritenuto il mandante, Marcello Dagata e Francesco Giammuso come organizzatori, e Aldo Ercolano come esecutore assieme al reo confesso Maurizio Avola. Nel 2001 le condanne all'ergastolo sono state confermate dalla Corte d'Appello di Catania per Nitto Santa Paola e Aldo Ercolano, assolti invece Marcello Dagata e Franco Giammuso. L'ultimo processo si è concluso nel 2003, con la sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato Santa Paola ed Ercolano all'ergastolo e Avola a sette anni patteggiati. Tante le commemorazioni oggi a Catania per ricordarlo, presente anche il gruppo siciliano dell'Unci, che ha osservato un minuto di silenzio e deposto un omaggio floreale sulla lapide a lui intitolata. Cambiamo argomento, la Guardia di Finanza ha sequestrato a Carini, denaro immobili per oltre un milione di euro per evasione fiscale. I finanzieri della Brigatta di Carini hanno sequestrato ad un imprenditore edile ritenuto responsabile di evasione fiscale, immobile e denaro del valore di circa 1 milione e 100 mila euro. Si tratta di un sequestro preventivo, cosiddetto per equivalente, disposto dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo per tutelare il diritto statale di recuperare le imposte che a seguito di comportamenti scorretti dal punto di vista fiscale non sono state incassate. All'imprenditore era stato infatti contestato di avere presentato una dichiarazione del reddito infedele nella quale era stato omesso di indicare ricavi che invece risultavano essere stati percepiti per oltre 4 milioni di euro, realizzando così un'evasione d'imposta di circa 1 milione e 100 mila euro. Gli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica alle Fiamme Gialle di Carini hanno permesso di individuare un conto corrente e 4 appartamenti di proprietà dell'imprenditore del valore pari a quello dell'imposta che non è stata versata nelle casse dello Stato. I beni sono stati sequestrati e affidati ad un custode giudiziario. Qualora la responsabilità dell'imprenditore dovesse essere accertata in via definitiva, gli stessi saranno confiscati e diventeranno di proprietà dello Stato, garantendo così l'effettivo recupero delle imposte vase. Tram di Palermo. L'AMAT sta risolvendo il problema delle macchinette per i biglietti che non danno il resto. Nel frattempo, ecco come rimediare. Si stanno studiando le soluzioni per risolvere in tempi brevi il problema delle macchinette per l'acquisto del biglietto del tram che non erogano il resto. Lo sottolinea l'AMAT, azienda che gestisce il servizio. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi. È necessario però, sottolinea l'AMAT, fare alcune precisazioni, distruire i cittadini su dove acquistare i biglietti e come usarli per evitare ulteriori disagi. Sul tram possono essere utilizzati i biglietti acquistati per la normale rete AMAT e quindi per gli autobus, che sono venduti in quasi 500 rivenditori autorizzati in tutta la città. I 90 minuti di validità del biglietto cominciano dal momento della obliterazione a bordo della vettura, sia essa del tram o dell'autobus. Per quanto riguarda le macchine emettitrici automatiche, ubicate presso le fermate e le stazioni del tram, la validità del biglietto, anche in questo caso, ha inizio dal momento della vidimazione a bordo e non dal momento dell'emissione da parte della macchinetta. In ogni caso, dichiara il presidente dell'AMAT, Antonio Cristina, l'azienda ha appena terminato una fase sperimentale che è servita per predisporre al meglio i bandi per l'avvio del servizio di biglietteria elettronica e dematerializzata. E si sta lavorando adesso all'utilizzo del biglietto a banda magnetica, tutti strumenti che permetteranno a chiunque, e in modo facile e diffuso, l'utilizzo dei mezzi. Un utilizzo che comunque i palermitani stanno già facendo e apprezzando, visti gli altissimi numeri dei biglietti obliterati sul tram in questi giorni. In previsione della riapertura del cantiere dell'Anello Ferroviario nel tratto compreso tra le stazioni Notarbarto e Giacchere, il Comune di Palermo ha emanato un'ordinanza valida da giovedì prossimo e fino al 31 marzo 2017, che stabilisce la chiusura al traffico di Piazza Castelnuovo. In previsione della riapertura del cantiere dell'Anello Ferroviario, il Comune di Palermo ha emanato un'ordinanza valida da giovedì 7 gennaio e fino al 31 marzo 2017, che stabilisce la chiusura al traffico di Piazza Castelnuovo. L'ordinanza dell'Ufficio Mobilità Urbana prevede nel dettaglio la chiusura al transito veicolare dell'intera carreggiata, in direzione mare di Piazza Castelnuovo, nel tratto compreso tra via Paolo Paternostro e via Ruggero VII, e di vieto di sosta con rimozione su due lati della carreggiata, compresi i posti riservati inclusi quelli per i motocicli nell'area interna della piazza. Il tratto antistante alle vie Folengo e Guarinomella diventa strada senza uscita, con obbligo di svolta a destra su quest'ultima via. Sarà consentito l'ingresso da mare verso monte, viceversa per l'uscita, ai veicoli da e per il passo carrabile. Il semaforo tra Via della Libertà, Piazza Castelnuovo e Via Turati verrà rimodulato e configurato in due fasi, una per ciascuna asse, per tenere conto delle nuove manovre consentite. Maggiori dettagli nell'ordinanza pubblicata sul sito istituzionale www.comune.palermo.it nella sezione Atti di Governo dei Libere Ordinanze. Sono stati consegnati ad Altavilla Milicia i premi Agrodolce ai giornalisti Pino Maniaci, Angelo Gargano e alla poeta Michelangelo Balistreri. È stato presentato un programma alla Regione Siciliana, l'assessorato Turismo e Spettacolo, che ha riscosso un finanziamento con il patrocino oneroso a carico del Comune. La proposta è stata fatta da un'associazione che noi conosciamo, che ha sempre operato bene nel territorio e per cui abbiamo deciso di contribuire e far svolgere questo evento che è per noi di fondamentale importanza perché va a riconoscere i meriti reali di persone che hanno lavorato nel territorio e per il territorio. Stiamo parlando di due giornalisti, Angelo Gargano nello specifico, che tutti conoscono, Pino Maniaci di Teleato, che tutti conoscono, ed infine Michelangelo Balistreri, che è un poeta nostrano e credo che meriti tutto questo premio. Ma intanto è una notizia che mi ha colto di sorpresa, che mi ha fatto naturalmente piacere perché ricevere un premio è sempre motivo di orgoglio, soprattutto quando lo si riceve per il lavoro a cui si è molto legati, per il lavoro che facciamo. Il compiacimento per questo riconoscimento viene, se così si può dire, esaltato, rafforzato, dal fatto che tra i premiati c'è un giornalista di trincea, di frontiera, quale Pino Maniaci, che ha dimostrato che anche le cose piccole possono diventare grandi, basta che c'è dietro un grande coraggio e una grande volontà. Questa è una meravigliosa terra, non può passare il messaggio di Sciascia che è irredimibile. Questa terra può cambiare e lo fa, diciamo, piano piano, gradualmente. Le forze dell'ordine nel territorio sono sempre comunque presenti e sono molto più avanti di altre regioni d'Italia perché non gli dà il tempo di rialzare la testa ai mafiosi che vengono immediatamente arrestati. Quindi è questa la nostra speranza, nei magistrati onesti, nelle forze di polizia, nelle istituzioni serie. E questo è il messaggio che dobbiamo portare avanti. Questa terra può cambiare. Le poesie non servono a vincere premio, servono a trasmettere emozioni, soprattutto a scuotere coscienze perché nel nostro territorio abbiamo bisogno di scuotere coscienze. Ed è giusto unirci, bagheria, unirci e diventare una forza perché soltanto diventando una forza vinciamo. A Sant'Elia ogni anno viene realizzato il presepe del mare, un atto vandalico, l'ha però deturpato le interviste. Questa mattina scendendo non abbiamo visto più il bambinello nella grotta. Questo è l'ennesimo sfregio che ci fanno al presepe perché negli anni passati è venuto a mancare qualche altro pezzo come l'asino, qualche pecora e ora è il bambinello. E noi con tanti impegni ogni anno, con tanti sacrifici, realizziamo questo presepe con amore verso la comunità perché è un'attrazione, tutto il circondario flavese, bagherese, la gente ci tiene a venire a Sant'Elia e a trovare il presepe per il periodo natalizio. Abbiamo chiamato i carabinieri e presenteremo denuncia al comando della stazione di Santa Flavia. Questo è l'ennesimo atto vandalico che si perpetra nei confronti di questa piccola cittadinanza. Sant'Elia non ha niente, nel senso che non ha grandi luoghi di aggregazione, ha solo la parrocchia come punto di riferimento. È un gruppo di ragazzi che ogni anno si impegna a dare lustra al nostro piccolo borgo attivando questa iniziativa che peraltro nella sua semplicità richiama molti turisti. Questo gesto è inqualificabile, ingiustificabile, non si può definire né una bravata, né un atto così meramente incivile. È qualcosa che va al di là, secondo me. Colpisce il cuore della comunità. Colpisce il cuore della comunità e colpisce anche il fatto che noi, già da questa estate, avevamo chiesto che Sant'Elia fosse un po' più attenzionato. Volevamo e ci era stato promesso un sistema di videosorveglianza, ma come si può vedere non è successo nulla. Anzi, questo gesto è ancora più grave dei precedenti, secondo me. A Bagheria il tradizionale concerto dell'Epifania alla Chiesa delle Anime Sante. L'intervista al maestro Salvatore Di Blasi. Cosa farete domani? Quanti sarete domani? Che valore ha questa ricorrenza per voi? Importantissima per la città di Bagheria. Appunto, dodicesimo concerto di Epifania alle ore 20.45 nella Chiesa delle Anime Sante che dal nono concerto fino in questo ci sta ospitando con il contributo generoso del parroco Massimiliano Purpura. Domani avremo 110 persone che faranno musica. Il coro Laudate Dominum, composto da circa ormai quasi 40 elementi. Abbiamo la novità del coro delle voci bianche, sempre nella sezione Laudate Dominum di Bagheria. Abbiamo cominciato questo nuovo percorso per i bambini educativo al canto. In più, insieme al coro delle voci bianche, abbiamo il coro delle voci bianche della scuola Gramsci di Bagheria accompagnati dalla bravissima, meravigliosa orchestra di fiati Puccini di Trabia sotto la direzione del maestro Vincenzo Di Maio. Faremo un primo momento tradizionale natalizio. Non soltanto il classico brano natalizio, perché immaginate il Natale senza musica, è impossibile. Natale è musica, anche questo. Quindi sulla tradizione nostra, dal punto di vista culturale, dei momenti pregiati anche di tradizione musicale natalizia, dove verrà... E poi una seconda parte del concerto sarà operistica. Avremo il Vapensiero, avremo il Brindisi, avremo Morricone, Obosteim, insomma ci sarà questo momento importante. A Bagheria un privato cittadino porta avanti una tradizione familiare, un presepe di grandi dimensioni realizzato con materiali poveri. È da circa 15 anni che ho ripreso questa tradizione. In pratica da piccolo ricordo il mio nonno Matteo Lopiparo, che abitava vicino alla chiesa madre, ne realizzava uno. Chiaramente si tratta di pensieri e di immagini un po' sfocate, perché risalgono a tanti anni fa. Poi la scintilla è scattata all'olio. La scintilla sicuramente. E poi grazie anche al periodo adolescenziale. Con mio padre, mia madre, abbiamo realizzato un presepe nel palazzo dove abitavo prima di sposarmi, in zona Caravella. Era più piccolo, però ugualmente grazioso, pure impegnativo. Chiamavamo lo Zampognaro. Per tre, quattro, forse anche cinque anni, se non ricordo male, tutti i vicini di casa del condominio, in pratica dall'immacolata ai giorni imminenti la vigilia di Natale, si recavano a casa nostra per, diciamo, ascoltare lo Zampognaro. Ma poi mi sono sposato, per un po' di tempo ho interrotto. Poi nel 2000, quasi per scherzo, sono ripartito e a poco a poco sono arrivato a 15 anni. Senti, le dimensioni sono a 2,50 m, 3 m per 4, cioè sono 15 m quadrati di manufatto. La domanda più spontanea viene, come fai a realizzare? Uno dei grandi impegni di questo presepe è quello di nascondere il filo. Secondo me è importantissimo, quando si realizza un presepe, cercare di nascondere il filo. E non è cosa semplice. Io lo nascondo con pezzi di corteccia, con rami di pino, che ho qua vicino a casa, con la carta stessa, insomma, un frutto misto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.